La sanità all'interno dell'azienda Marche Nord e le sorti dell'ospedale Santa Croce di Fano sono finite in tribunale con un esposto querela presentato al Tribunale di Pesero da parte dei gruppi consigliari dell'UDG e Progetto Fano. Lo spunto parte da alcune vicende assurte agli onori della cronaca, quattro per la precisione riportate nell'esposto, negli ultimi tempi che sarebbero indicative dello stato in cui versa l'organizzazione dell'ospedale fanese. Non usano mezzi termini i firmatari del documento, Aramis Garbatini, Alberto Santorelli e Davide Del Vecchio, quando indicano espressamente un rischio potenziale di vita per chi necessita di interventi per patologie cardiologiche o chirurgiche che abbiano un carattere d'urgenza, dato che il Santa Croce manca di una chirurgia H24 a causa di un imbobilismo del primo cittadino, proseguono i firmatari, che tarda nell'emettere l'ordinanza che permetterebbe la riapertura delle camere operatorie 24 ore su 24. Questo esposto segue l'ordinanza che abbiamo chiesto al sindaco su chirurgia H24, un'ordinanza che il sindaco o per mancanza di coraggio o perché ha dei veti incrociati da parte della sua maggioranza non riesce evidentemente a fare, però vogliamo ricordare al sindaco che oltre alla fortuna di questi giorni, di queste settimane che sta avendo, per governare ci vuole anche coraggio, perché se la fortuna prima o poi finisce, del coraggio ce n'è sempre bisogno. Quindi con questo esposto raccontiamo alcuni fatti accaduti e soprattutto un eclatante di cui hanno parlato anche le cronache locali e nel 2016 non si può nell'ospedale di Fano rischiare di morire per un appendice in peritonite. Eravamo bambini noi che sentivamo dire che all'ospedale venivano curate istantaneamente le appendicite in peritonite e non possiamo nel 2016 di fronte a tutto questo progresso promulgato ogni giorno essere di fronte ad una situazione così degenerante. Noi siamo pubblici ufficiali e quindi siamo anche obbligati, come del resto lo sono tutti gli altri consiglieri comunali e chi rappresenta il territorio. Quindi abbiamo portato dei casi che sono saliti alla cronaca, quindi sono evidenti, alcuni invece che abbiamo chiesto di poter utilizzare proprio per fare evidenziare una strategia che c'è in atto, che tende, secondo noi ovviamente dal punto di vista politico e amministrativo, a depotenziare l'ospedale di Fano, a renderlo tra virgolette non più fruibile dalla nostra cittadinanza e quindi mettere potenzialmente a rischio la vita delle persone. Quello che sta di fatto accadendo, che tutti i cittadini dicono, del nostro ospedale in questo momento. Ecco, questa è una strategia politica e amministrativa. Ecco, l'avete fatto perché vi sentite inascoltati o perché è giusto che la gente sappia? Ma intanto è giusto che la gente sappia, perché qui si sta decidendo nelle segrete stanze il futuro della sanità locale. Questo è inaccettabile. Questo è il futuro della sanità locale.